Qui è pieno di gente anche da noi che viene a chiederci di poter fare il tampone perché le farmacie non riescono a soddisfare tutte le richieste. Addirittura c'è gente che va nei paesi limitrofi a farlo e cerca un posto disperatamente. È in atto un'emergenza legata ai tamponi perché la richiesta supera di gran lunga l'offerta fornita dalle farmacie. A denunciarlo è Daniela Clini, coordinatrice delle parafarmacie delle Marche che da tempo porta avanti una battaglia per far sì che anche questa categoria possa dare il proprio contributo a maggior ragione in quest'ultimo periodo in cui molte persone sprovviste di Green Pass si vedono costrette ad eseguire il test ogni due giorni. Nel mese di aprile la regione Marche aveva concesso alle parafarmacie di effettuare i tamponi. Questo soprattutto nasce dalla necessità di avere una tracciabilità maggiore possibile e anche una notevole capillarità. Poi invece a distanza di qualche giorno Federpharma che sarebbe l'associazione dei farmacisti titolari invia alla regione Marche una diffida dove appunto dice che solo i farmacisti delle farmacie possono effettuare i tamponi e solo gli ambienti delle farmacie sono idonei a questo servizio. A quel punto, prosegue Daniela, la regione con una delibera tolto alle parafarmacie la possibilità di fare i tamponi, una decisione che ha comportato anche un danno economico. Avevamo già fatto degli investimenti anche perché dovevamo seguire delle regole precise che la regione stessa ci aveva dato quindi addirittura alcuni di noi erano arrivati anche a prendere dei gazebi per poter fare gli esami fuori e quant'altro. Secondo noi, continua la coordinatrice, le ragioni che hanno portato a tutto ciò sono infondate per questo siamo andati avanti e siamo arrivati fino al Consiglio di Stato il quale ha accolto la nostra istanza. Ora si attende di nuovo la risposta del Tar delle Marche che a cascata influirà sulle scelte di tutte le regioni d'Italia e dunque ha precisato Daniele una lotta a livello nazionale. Intanto ecco la risposta del Consiglio di Stato. In modo abbastanza palese dice ma signori questi sono farmacisti e oltretutto i locali devono essere, seguono le stesse regole delle farmacie quindi perché non possono fare questa cosa e addirittura indica una strada che è la strada della Corte di Giustizia Europea cioè dice arrivate alla Corte di Giustizia Europea e noi questo lo vogliamo fare. Al di là di tutti i cavilli e di tutti i vari azzecca garbugli che popolano la nostra politica tra l'altro in questo momento c'è una difficoltà enorme per i cittadini che devono fare i tamponi perché uno non tutte le farmacie li fanno alcuni li fanno ad orari ridotti anche perché logicamente hanno altro da fare quindi tutto questo si trasforma in un caos totale e in un disservizio assoluto nei confronti del cittadino. Sarebbe stato molto utile anche nell'interesse pubblico e soprattutto nell'interesse pubblico che le parafarmacie potessero partecipare a questo progetto. Noi siamo intenzionati ad andare avanti, vogliamo far valere le nostre ragioni e quindi lottiamo per noi ma soprattutto anche per tutta la cittadinanza. Noi siamo intenzionati ad andare avanti.